Sei molto... molto irritante. Dici sul serio? Mi definirei più affascinante che irritante. Mi sembra che tu abbia... qualche problema di puntamento. Ehi! Guarda che prima o poi sarà il tuo turno. Bene, avevo giusto bisogno di una messa in piega. Raramente ho incontrato avversari con una così pessima mira. No, mancato! Ancora i soliti laser? No, mancato! Sì! 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 Solo non so... Cosa ci fosse! I amrita! Cosa ci sarà pure, sui? Capisco che cercare di eliminarmi ti dia una grande soddisfazione. Iai Cahootie! Sta diventando una questione personale. Possibile che non hai un dispositivo di puntamento automatico? Dove sarà? Dove si sarà cacciato? Ecco sul set. Ehi, da non crederci! Domanda banale. Qualcuno ha mica visto in giro una specie di robot androide con una specie di zaino sulle spalle? L'ambasciata latveriana? Grazie della dritta!